Record del mondo! Allora, Sandro, Sandro, Lucia consegna ad Alessio Mazzoni il certificato più ambito del mondo! Dignes World Record! Ragazzi venite davanti per i fotografi, qua qua, qua qua qua, qua, grandi, grandi, ecco qui! Siamo riusciti a portare il vinto qui d'Italia! Dignes World Record! L'Italia è il campione di ruti nel mondo! E viva! E l'ora è il campione! Alessio Mazzoni fra un campo galliano! La città della bilancia e ora la città dei ruti! Messa come contento sindaco! Un vinto! Grande Ale! Allora ragazzi, dopo questa grande prova, Sandro e Mattia al microfono! Allora, adesso io e Mattia vogliamo fare un tentativo, Lucia, scusa, abbiamo bisogno di te, abbiamo!